Musica 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 The Coffee Way, una nuova linea lanciata da Vita Group per permettere l'apertura di nuovi punti vendita, ma non solo, saranno anche dei punti di incontro dedicati al re, il caffè. Il settore del caffè con l'ultimo ritrovato, quello delle capsule compatibili, rappresenta una fetta di mercato molto importante che negli ultimi anni ha avuto un'espansione incredibile. Gli obiettivi sono molto ambiziosi, aprire i primi 100 negozi per arrivare poi a 300, il punto vendita pilota ovviamente all'Aquila. The Coffee Way è la nuova linea lanciata da Vita Group, una serie di negozi, tutta una dotazione pronta per chi vuole aprire un punto materiale di vendita del caffè, ma non solo un punto di incontro e tanti altri servizi all'interno. Perché Vita fa questa scelta? Vita fa questa scelta perché oggi su questo segmento, il segmento che fa parte di un settore, il settore del caffè, e in particolare delle capsule compatibili che ormai negli ultimi tre anni ha visto prendere un po' il sopravvento ed equiparare in termini di valore di mercato quello delle capsule originali, oggi non esiste un marchio, un brand, un player che è capace di dare un'esperienza nuova, un'esperienza al cliente finale nel momento in cui ha bisogno di andare a scegliere il suo caffè e farlo in maniera economica e sostenibile. Riceviamo tramite il nostro gruppo ma anche agli esterni, riceviamo una richiesta di informazioni sul nostro canale prioritario che è info.chioccioladecoffeeway.com Da quel momento si scatena un flow, si scalena un processo che passo passo fa sì che noi riusciamo a seguire il potenziale, poi il definitivo francesi in tutto quello che è il percorso di apertura del suo negozio, quindi dalla ricerca dell'area migliore dove andarlo ad implementare, alla sistemazione del negozio per far sì che possa ricevere il nostro format, l'allestimento, le autorizzazioni, il rifornimento di materiale, tutto quanto. La nostra offerta poi è, chiamiamola così, all inclusive, ovvero ci vogliamo prendere cura prima di tutto, prima ancora del cliente, del nostro primo cliente, quindi il nostro francesi, perché gli vogliamo dare tutto il supporto necessario, quindi dagli allestimenti alla progettazione a tutti i sistemi informatici di cui ha bisogno il negozio, quindi il CRM, il sistema di cassa, la gestione del magazzino, per far sì che sia in contatto con noi sempre. E in contatto con noi può starci anche con tutto il supporto materiale e relazionale che potremmo dargli con il customer service dedicato, con un retail manager di essere incaricato di andare a fare supporto e formazione sul luogo. Grazie a tutti. 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 Il numero che vogliamo raggiungere però poi è un 300 sul mercato italiano. Noi siamo partiti e il nostro obiettivo era partire sicuramente e focalizzarci in Italia. Il caffè ormai da tempo, lo sappiamo benissimo, è un prodotto che rappresenta l'italianità nel mondo, specie l'espresso, ma non dimentichiamo che il caffè è la bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua, e quindi questo a livello mondiale. Questo a livello mondiale, negli altri paesi, soprattutto nel mondo anglosassone, ormai diciamo che la globalizzazione fa sì che tutte le esperienze si mischiano in giro per il mondo, il caffè viene bevuto in tantissimi altri modi, mischiato con il latte, mischiato con altre bevande e soprattutto il caffè americano ormai in tutto il continente, sia a nord che a sud, ne fa da padrone. Noi con Crowd Coffee abbiamo avuto la prima esperienza di internazionalizzazione dei nostri business, del nostro gruppo, oggi con Crowd siamo in Brasile, Spagna, Romania e oltre che l'Italia, stiamo aprendo adesso in questo mese UK e soprattutto stiamo aprendo Nord America, Nord America con un caffè diverso dall'espresso, con un caffè americano. Ovvio che nel momento in cui abbiamo già ormai messo un piedino su altre tipologie di prodotti, su altri mercati, sarebbe un po' stupido non farlo con anche la nostra nuova iniziativa di Coffee Way, tant'è che parlandone così in giro con i nostri distributori locali, i nostri partner locali, già sono fioccate richieste, quindi adesso il nostro impegno è nel calmierizzarle per poterle tenere vive e poterle attivare nel momento giusto in cui saremo pronti a sviluppare anche l'estero. In un Coffee Way Store l'utente si rimmergerà in quello che è, appunto lo dice il nome del brand stesso, in quella che è la via del caffè, quindi dalle origini, dal momento in cui viene selezionato nelle piantagioni del Sud America, del Centro Africa, dell'Oriente, del Vietnam, eccetera, al momento in cui invece viene preso e importato ad esempio in Italia. Noi siamo fra i più grandi torrefattori in termini di volumi e consumatori di caffè e quindi torrefatto, macinato, incapsulato nel nostro caso perché noi siamo al 99% focalizzato sul settore capsule e poi immesso sul mercato, immesso sul mercato nella nostra modalità con le capsule compatibili in un negozio che ti richiama tutto quello che fa parte della via del caffè. Sacchi di juta, materiali naturali, il pavimento è fatto di cocco e cioccolato, colori che rievocano il legno, il legno scuro, il beige del sacco di juta, tutte cose che ti vogliono comunque riportare a quello che è l'origine dell'esperienza del consumo del caffè. Grande ampliamento in città, nuovi posti di lavoro, l'ennesima idea vincente della mente di Vita Group, Marco Reato, che si conferma imprenditore di livello ed illuminato, capace di creare lavoro ma anche innovazione in diversi campi. Anche noi adesso entreremo sul mondo del compatibile di tutti i marchi e quindi con grosso ampliamento all'Aquila degli impianti di produzione stanno arrivando altri impianti che insomma produrremo sempre noi, questo è il nostro stile, la nostra cultura che noi vogliamo, non vogliamo acquistare da nessuno, vogliamo produrci noi il caffè, vogliamo seguire noi gli acquisti del caffè per assicurarci la migliore qualità. L'idea dei negozi è nata da una piccola esigenza, noi portiamo avanti la cultura di Vita Group che vengono da diretta, lavoro molto impegnativo però dove si possono arrivare a livelli incredibili, di soddisfazioni, di successo e di guadagni incredibili. Però casomai vedo che ogni qualvolta si presenta il conto da pagare Vita Group, che non è che un'iscrizione o quote anno e altro, ovvero l'impegno e il duro lavoro, buona parte delle persone si dichiarano fuori. E così The Coffee Way è un modo come poter avere un'attività che non richiede agli impegni di Vita Group, certo non puoi neanche sperare di poter arrivare a guadagnare quello che puoi guadagnare con Vita Group, però dove ti puoi assicurare un guadagno più che dignitoso per vivere dignitamente bene. Abbiamo già preso dei locali, non noi ma i nostri francesi a Santo Domingo, abbiamo già 11, abbiamo accettato già 11 aperture in Brasile, prossimamente saranno Regno Unito, Spagna, che erano oggi qui presenti alla nostra convention. Insomma l'estero ci richiede il lavoro, ma noi vogliamo concentrarci principalmente sull'Italia perché c'è da fare tanto in Italia. Oggi qui al teatro Brancaccio, che tra l'altro l'abbiamo inaugurato, che c'è stato il terzo anello come lo stadio. Oggi qui eravamo 2000, teatro strapieno. E questo è bello, però poi certo, adesso la festa è finita, andate in pace, andiamo a lavorare, perché adesso c'è da lavorare duramente. E così da morire, e già ho avuto a vedere più, e poi diventare un grande successo a me, che è davvero estwise. Grazie a tutti.